bellissimo bellissimo buona idea si bene 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 si si vieni da su come andiamo qua al c'è un altro ragazzo spettacolo Guarda, stop, stop! Il chef qui... Come on! E le tre salle! Guarda il chef. Sì! Sì come stai! Come sono sei! Ah, that's good! Ma adesso stai. Due palloni? Poi diamo di due palloni? No, no, no. Gavano due! Ghiè! Ghiè! No, non usciamo con uno. Ghiè! Ghiè! È mia! Ghiè! Ghiè! Lassù! Ghiè! 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 Grazie!